Ciao a tutti, allora perdonatemi, io avevo già girato questo video, però durante la registrazione del video sono arrivate 20.000 telefonate, quindi si interrompeva di continuo, non mi piaceva, saltellava, quindi ho detto lo rigiro perché ero distratta, ripetevo le cose, perché ovviamente tra una telefonata e l'altra non riuscivo, perdonatemi allora, questo è il video sui miei capelli, questo video lo giro perché ho scelto di farvi la cronistoria di come da nero sono passata questi capelli, questi capelli che ho adesso io ho fatto il nero dal biondo, platino, vi metto qui una foto di come ero, nel 2016 sì, nel 2016, quindi io ho fatto un errore nel messaggio che ho mandato a Nicholas, infatti dovrò rimandargli nuovamente perché ho sbagliato le date, perdonatemi, io ho l'Alzheimer, che galoppo, dicevano, ero bionda come vedete in questa foto, nel 2016 nel 2017 sì, fine 2016 mi sono fatta nera e ho fatto l'errore più grande della mia vita perché io con quel biondo lì avrei avuto dei capelli fantastici perché era un biondo freddo, platino mi sono fatta nera mi sono fatta nera e ovviamente un nero è un colore pestifero come il rosso sono colori difficilissimi da togliere a fine 2017 mi ero stancata del nero perché io sono una che cambia colori continuamente allora io di base sono biondo cenere io ho tolto, nel senso che ho coperto il mio colore naturale quando avevo 17 anni e non l'ho più visto io non ho più visto il mio colore naturale tranne quando ho ovviamente la crescita perché il mio colore è un colore morto è un colore spento è un colore che non mi piace quindi l'ho totalmente coperto sono tanti anni che io coloro i capelli quindi io venivo da quel biondo lì mi faccio nera a settembre più o meno del 2017 decido che volevo cambiare e vado da una parrucchiera dai miei a Palermo chiedo a questa parrucchiera avevo i capelli lunghi chiedo a questa parrucchiera di farmi le punte di un colore diverso io le volevo viola e lei mi ha detto vediamo schiariamo vediamo a che punto arriviamo e poi decidiamo che colore fare vi metto qui la foto lei mi ha detto su questa decolorazione abbiamo fatto una 20 volumi proprio per non rovinare i capelli su questa decolorazione facciamo il rosso non ha affatto quello che volevo non mi piaceva il risultato tra l'altro me li ha tagliati i retti a me il capello retto non piace perché mi accorcia non mi sta bene e quindi ho detto vabbè pazienza poi quando torno a Bergamo sono tornata a Bergamo e dopo sei mesi circa sono andata da una parrucchiera nel frattempo i capelli erano allungati di nuovo e sono andata da una parrucchiera e le ho detto vorrei fare delle mesh su cui fare un colore particolare e lei mi ha fatto delle ciocche che però ha tonalizzato con un fucsia però questo fucsia era molto blando quindi in alcune parti è venuto marroncino in alcune parti fucsia in alcune parti rosa lo vedete qui in questa foto dopodiché io sono entrata nel magnifico mondo del mi coloro i capelli da sola perché li tonalizzavo poi da sola con Manic Panic con Manic Amplified con Manic Panic normale con la Rich Direction con Crazy Color insomma me li coloravo da sola e ho scelto di tonalizzarli circa 15 giorni dopo e li ho fatti da sola vi metto qui la foto di come erano quando li ho fatti da sola ovviamente purtroppo ho fatto solo il davanti la foto l'ho fatta davanti non ho una foto del dietro pazienza vi faccio vedere come erano davanti poi ho fatto uno secondo step terzo in questo caso di decolorazione e me li ha ulteriormente schiariti ulteriormente ha fatto altre ciocche quindi man mano schiarivano sempre di più e quindi il colore prendeva meglio e me li ha tagliati li ho fatti tagliare anche perché eravamo in primavera ed era il 2018 no sì 2018 li ho fatti tagliare parecchio era la fine del 2018 la settembre più o meno quindi la fine dell'estate li ho fatti tagliare e me li ha tonalizzati vi metto qui la foto me li ha tonalizzati ero abbastanza contenta soddisfatta ovviamente vedete che erano delle mesh quindi c'erano ancora parti molto scure dopodiché sono allungati nuovamente e sono tornata da lei che mi ha fatto un bellissimo bitono sopra erano viola sotto erano fucche mi piaciono un sacco me li ha nuovamente tagliati dopo sei mesi circa e mi ha fatto una piega mossa che a me dura come Natale da Natale a Santo Stefano avendo i capelli lisci che tra l'altro adesso sono tonalizzati perché ho fatto il shampoo fucsia e ho i capelli super elettrici vanno spazzolati ma sono ancora umidi quindi non li spazzolo mi piaciavano tantissimo ed era il quarto step di decolorazione dopo di che io le punte non le ho più toccate le lunghezze ho fatto quattro step di decolorazione poi non le ho più toccati facevo solo la radice però quando tiri le mesh automaticamente anche se tu fai solo la radice prendono anche un po' le lunghezze quindi l'ultima volta in cui sono stata dal parrucchiere ho fatto questi capelli qua vi sto mettendo qui la foto e ho scelto un lilla un lillino un colore un po' bello un bellissimo colore che però come sempre perché loro usano semipermanenti un po' blandi quindi durano tre quattro shampoo non di più e io ovviamente tonalizzavo con i miei colori dopodiché io ho scelto di non andare più dal parrucchiere e li ho fatti da sola io vi invito sempre a non seguire il mio esempio non vi decolorate i capelli da soli andate dal parrucchiere io l'ho fatto perché perché l'ultima volta che ho fatto i capelli la parrucchiera per un tot di crescita così e un po' di colore un po' di colore è un taglio è una piega ovviamente mi ha chiesto 160 euro ho detto non è più il caso non è più il caso quindi ho scelto di farli da sola adesso vi starò mettendo delle foto di come io li faccio da sola da un annetto circa sì più o meno è un anno che io mi decoloro le radici ma il colore l'ho sempre fatto da sola lo sapete ve ne ho sempre parlato vi metto qui qualche foto di capelli che ho fatto in quest'ultimo anno da sola e vi metto alla fine la foto di come sono i miei capelli adesso troppo lunghi sicuramente perché sono un anno è qualcosa un anno e mezzo che non li taglio troppo lunghi le punte sono sfilacciate quindi sicuramente sono da tagliare andrò alla fine dell'estate perché andare ora non ha molto senso andrò alla fine dell'estate li taglierò farò una scalatura perché io li scalo più che altro li alleggerisco e farò non farò decolorazione è tonalizzato è colore farò solo il taglio e la piega basta perché colori adesso sono molto lunghi ve li ho fatti vedere anche sono molto 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 lunghi non sono rovinati i miei capelli non sono opachi sono adesso li vedete sparati perché ovviamente sono ma vi metto delle foto in cui si vedono anche i miei capelli spazzolati lucidi ultra lucidi al sole però in questo momento sono così perché non sono ancora spazzolati li ho asciugati ho asciugato la cute ma io finché non sono asciutti non li spazzolo perché spazzolare un capello trattato umido bagnato lo spezza non si fa perché si spezza il capello trattato bagnato umido si spezza se lo spazzolate quindi io cosa faccio li spazzolo prima di lavarli li lavo metto lo shampoo lavo la cute io la lunghezza appunto e non metto lo shampoo lavo la cute li sciacquo molto bene applico il balsamo li districo un po' con le dita li tampono non li strizzo li tampono faccio il leave in li asciugo e poi quando sono li asciugo molto bene in cute lascio lunghezza e punte umide quando sono del tutto asciutti li spazzolo anche perché i miei capelli una volta che applico tante robe prima dello shampoo come vedete nonostante non siano spazzolati non hanno nodi chiuso quindi farò li farò un po' accorciare questo mio video a cosa serve serve per dirvi che avere questo colore passando dal nero si può fare però dovete affidarvi a un parrucchiere che lo farà con cognizione di causa e in molto tempo non pensate di passare in una sola seduta da nero a biondo per fare questi colori perché non funziona così la decolorazione va fatta per step quindi si inizia si prendono sei mesi di pausa si fa la seconda deco si prendono altri sei mesi di pausa si fa la terza deco si prendono altri mesi di pausa si fa la quinta la quarta la quinta quello che volete ma fatelo ai professionisti con criterio non seguite il mio esempio io ora mi decoloro solo la radice come vi ho sempre detto però non lo fate da soli a casa ragazzi è pericoloso potete causarvi danni ai capelli e bruciarvi la cute non lo fate non seguite il mio esempio e non seguite nemmeno l'esempio di altri che lo fanno sul web questa è sempre una cosa che io dico noi youtuber gli influencer i divulgatori chiunque fa video e ha un pubblico anche piccolo come nel mio caso influenza le persone quindi è importante che seguiate gli esempi giusti appunto bene io volevo farvi vedere appunto questi video questo video volevo farvi questo video adesso cercherò di rinviare nuovamente gli audio e le le stories a nicolas perché mi sono resa conto che ho fatto un casino quindi glieli rimanderò perché gli ho mandato delle foto al posto di altre insomma un casino non fa niente comunque ora vi vedete di sistemare il casino vi saluto vi ringrazio al prossimo video ciao